Elio e le storie tese 38 anni fa nasceva a Milano il gruppo musicale che meglio ha rappresentato il lato ironico e trasgressivo della città che ha saputo rivelarne luci e ombre senza mai rinnegare il legame che ha avuto e che ha con essa gli Elio hanno mosso i primi passi tra i banchi del liceo Einstein per poi diventare musicisti di altissimo livello suonando prima nei locali dell'eccellenza musicale milanese e poi in centinaia di concerti in tutta Italia capaci di raggiungere un pubblico straordinariamente eterogeneo e che abbrassa tutte le generazioni la band milanese per eccellenza ha saputo tracciare attraverso la musica le trasformazioni del paese distinguendosi sempre per l'impegno civico e per la capacità di trasmettere con la musica ma non solo valori profondi come l'apertura alle differenze e il rispetto per il bene pubblico ritirano il premio Elio, Cesare, Faso e Rocco Tanda grazie a tutti 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 Grazie.